Domani, nell'ambito del mese della prevenzione del tumore al seno, si celebra il BRA Day. Che cosa significa, che cosa vuol dire? Fa riferimento il BRA Day al tema della ricostruzione mammaria, dell'intervento di chirurgia plastica. Noi faremo delle visite gratuite su prenotazione, sia per quanto riguarda l'ambito strettamente senologico, quindi di educazione anche all'autopalpazione del seno, sia per quanto riguarda le donne che sono state operate il tema della chirurgia plastica. Quello che è importante è dire che in questo mese è il mese della prevenzione del tumore del seno, ma è importante per la donna sapere e ricordare che tutto l'anno è il tema della prevenzione del seno, perché il tumore è più frequente, il tumore è più diagnosticato, ma proprio per la prevenzione, per le nuove terapie sia chirurgiche, ma soprattutto oncologiche e radioterapiche, c'è una riduzione della mortalità dagli inizi degli anni 2000, 0,8% ogni anno. Quindi è importantissima la prevenzione e quindi il tema dello screening mammografico. Noi ci siamo impegnati ad acquisire un nuovo mammografo a Bragarina e stiamo facendo anche un intervento sul personale, abbiamo fatto un concorso per radiologi, avremo un nuovo radiologo di esperienza, oltre a quelli che abbiamo già e che sono molto bravi, all'inizio del nuovo anno. Bene, quindi domani si celebra questa giornata alla luce anche di tecnologie mediche ad altissimo livello, mi pare di sottolineare anche il fatto che non solo la prevenzione, non solo la cura, ma anche la parte estetica, questa ASLA è in grado di offrire un altissimo livello. Sì, assolutamente, con i chirurghi plastici che fanno parte dell'equipe multidisciplinare che dopo la diagnosi da parte del radiologo prende in carico in modo multidisciplinare la donna. Domani sera alle 21 sulla nostra rete, finestra sull'aslo per un approfondimento sul tema. Grazie.